Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera, buonasera. Buonasera, buonasera. Ok, allora, oggi parliamo di un argomento molto interessante e secondo me anche molto utile. Ciao Adelaide, ed è un argomento che io ho affrontato nel mio percorso fino ad oggi, quando ho affrontato, ho realizzato una serie di obiettivi e ho capito quindi perché ho scelto questo argomento, perché ho fatto esperienza proprio di una realizzazione interiore che vorrei condividere stasera con voi. E una realizzazione... Ciao Sonia! Una realizzazione che mi ha permesso poi di arricchire i miei percorsi con le mie clienti. Per chi non lo sa, mi presento due minuti, sono una life coach, è una spiritual coach e nei miei percorsi di coaching utilizzo delle tecniche di psicologia energetica, per cui sono percorsi psicospirituali, quindi sono, diciamo, dei percorsi di coaching dove gli obiettivi si raggiungono integrando però anche la dimensione spirituale. Sì, Maria, grazie. Ciao Loredana, buonasera. Grazie, Maria, per queste tue belle parole. Sì, è un momento particolare per mio padre. Comunque, ci tenevo a esserci stasera perché, insomma, una diretta al mese riesco in qualche modo ancora a sostenerla, però, insomma, come avete visto, sono veramente poco social ultimamente, quindi post veramente pochissimi. va bene così, va bene così, è una sfida per mio padre, è una sfida anche per me, ma mano nella mano si va avanti. Allora, stavo dicendo che l'argomento che ho scelto è un argomento che ho fatto mio perché ho fatto esperienza nel raggiungere alcuni obiettivi e mi sono resa conto, in questi anni, ho raggiunto diversi obiettivi, infatti, insomma, il libro che ho scritto quattro anni fa è uno di questi, un altro è in stand by, lo sto scrivendo, anche se con tempi molto lenti, quindi ho fatto tantissimi, sono anche una formatrice, quindi ho fatto tanti corsi, insomma, ho una bella carriera sia di studi e anche poi una ricercatrice spirituale, insomma, ho raggiunto un po' di cose, ok? E in questi anni mi sono resa conto di una cosa che per me è diventata proprio una verità sacrosanta e che ho inserito nei miei percorsi, nel mio percorso dalla paura al potere di scegliere, che è un percorso che propongo alle donne che sono bloccate nella paura e che hanno paura del cambiamento e che non riescono a fare una scelta. Qual è questa verità? Qual è questa verità che ho realizzato? E che si dà veramente, secondo me, troppo valore agli obiettivi che vogliamo raggiungere senza capire che il vero valore non è l'obiettivo finale, quindi la meta finale, ma è il percorso che andiamo a fare per quell'obiettivo. Mi spiego meglio. Allora, quante volte capita, no, di pensare che non siamo soddisfatti del nostro lavoro, che vorremmo un lavoro più soddisfacente, meglio ritribuito, oppure vogliamo una vita più felice, una relazione più appagante. Sono tutti obiettivi bellissimi, nobili e assolutamente condivisibili, no? Ma per ottenerli devi essere tu il primo a cambiare. Quindi, prima di ottenere, prima di entrare in possesso di un risultato, di un obiettivo, quindi prima di avere, c'è l'essere. Quindi, se vuoi di più, diventa di più. Se vuoi una vita migliore, diventa tu migliore. Ma non migliore rispetto a qualcuno, ma rispetto all'obiettivo che vuoi raggiungere. Adesso cercherò di essere più chiara. Cioè, bisogna smettere di guardare fuori di noi, smettere di guardare l'obiettivo che sta fuori di noi, ma iniziare a guardare l'obiettivo che è dentro di te. Perché l'obiettivo dentro di te appartiene al tuo essere. Cosa vuol dire? Per raggiungere un qualsiasi obiettivo, facciamo un esempio. Facciamo l'esempio, non so, immagina che di voler perdere, non so, dieci chili, no? E ti scrivi la tua lista delle azioni da fare. Quindi, tutte le azioni da compiere, no? Per raggiungere l'obiettivo. Quindi, nutrizionista o dietologa, mettersi a dieta, andare a correre, mangiare i cibi sani, eliminare i cibi spazzatura, eccetera, eccetera. Fin qui tutto bene, no? Niente da obiettare. Ma a fianco, anzi addirittura direi prima, di stilare la lista delle cose da fare, ci sarebbe necessario stilare la to be list, cioè la lista dell'essere, cioè la lista delle qualità dell'essere, cioè chiediti chi devi diventare per raggiungere il tuo obiettivo. E' questo che intendo che prima di avere devi essere. Quindi chiediti chi devo diventare, chi devo essere per raggiungere quell'obiettivo? Prendiamo di nuovo l'esempio della dieta. Allora, per raggiungere quell'obiettivo magari devo diventare una persona che trova la forza per fare sport anche quando, come dire, non c'è voglia oppure quando vorrebbe stare stravaccato sul divano, ok? Quindi la forza, no? Anche la disciplina, la costanza, sono tutte qualità dell'essere. Oppure una persona che non cerca consolazione nel cibo o nel bere quando qualcosa non va. Quindi una persona che riesce a sviluppare la forza e la capacità di restare nel proprio centro anche quando le cose non vanno come vorrebbe. Quindi la fiducia in se stessi anche, no? La centratura comprende la fiducia in se stessi. Credere nell'invisibile anche quando non arrivano subito i risultati. Quindi sviluppare anche fiducia, fede, ok? Non si riesce a condividere il video? Nico, non lo so perché. Non lo so. Se c'è qualche moderatore che ti può spiegare o che può... Non so. Non so come si possa fare. Però grazie. Grazie per il tuo pensiero. Grazie davvero di cuore. Quindi, prima di occuparci di entrare in possesso di un risultato prima di raggiungere un obiettivo è importante occuparci prima dell'obiettivo interiore. Quindi guardare dentro di noi, no? E farci la domanda chi voglio essere? Chi voglio diventare? Chi devo diventare per raggiungere quell'obiettivo? Sonia, grazie per aver risposto. Sì, in effetti sì, effettivamente perché il gruppo è privato. Ok. Dovrebbe iscriversi al gruppo Ponti di Luce e così potrebbe poi partecipare alla diretta. Ok. Quindi, l'essere viene prima dell'avere. Quindi, le qualità da andare a... ad allenare, a sviluppare, le qualità dell'essere sono ovviamente infinite, no? perché noi possiamo diventare, possiamo sviluppare qualsiasi qualità che ci porta a realizzare un determinato obiettivo. Ma, ripeto, l'obiettivo ed eventuali risultati vengono dopo. Ecco perché è importante focalizzarsi sul viaggio, sul percorso. perché è durante il percorso che tu, che noi diventiamo l'essere che serve per realizzare quell'obiettivo. Quindi, che cosa significa occuparsi prima dell'essere? Significa che se tu vuoi dimagrire dieci chili, è un esempio, è importante che tu ti occupi prima di diventare quella persona forte, capace di rimanere fedele, ancorata, eradicata a quell'obiettivo anche quando ti girano le scatole, anche quando le cose nella vita non vanno come vorresti e non ti butti subito a consolarti con il cibo, a fare le abbuffate anti-ansia, ok? Quindi, e questo è importante, cambiare lo sguardo, non focalizzarsi sull'obiettivo esterno, buonasera Margherita, buonasera Katia, ma focalizzarsi sull'obiettivo interno, cioè l'obiettivo legato all'essere, cioè al nostro centro, chi devo diventare per raggiungere quell'obiettivo, quindi questa è la vera funzione, il vero ruolo di un obiettivo, l'obiettivo in sé per sé non è importante tanto, cioè l'importanza di un obiettivo, il valore di un obiettivo non è nel raggiungimento di quel risultato, ma il suo valore è nel farci innanzitutto alzare dalla sedia, no? farci alzare dal divano e seconda battuta, farci diventare la persona più evoluta rispetto ad oggi, cioè farci evolvere, farci crescere, farci sviluppare quelle qualità dell'essere, dell'anima che ci servono per evolvere la fiducia, il coraggio, andare fuori dalla zona di comfort, mettersi in gioco, credere nell'invisibile anche quando non arrivano subito i risultati, quindi credere, credere nel proprio progetto che può essere una dieta ma può essere anche il cambiare lavoro o andare in un'altra città o realizzare qualsiasi tipo di obiettivo. Quindi gli obiettivi sono il pretesto per diventare quello che possiamo essere in profondità, cioè hanno la funzione di far sviluppare le nostre potenzialità a prescindere dal risultato finale. Cioè anche se anche se non so intraprendi un percorso che nonostante il tuo impegno, nonostante le buone intenzioni, nonostante tutto lo sforzo non è andato come volevi oppure una relazione che per te era molto significativa fallisce o che hai dovuto interromperla tu oppure non so un matrimonio è andato male oppure un'attività imprenditoriale che fallisce non ha dato i risultati che speravi oppure facciamo che ti sei cimentata in un nuovo corso di studi ma alla fine hai dovuto interrompere non è il pezzo di carta finale non è il risultato finale che fa la differenza nella tua vita quello che fa la differenza nella tua vita e quello che tu hai dovuto nel frattempo sviluppare le qualità che hai dovuto mettere in gioco le carte che ti sei dovuta giocare questo è quello che farà di te una persona differente una persona cresciuta una persona arricchita perché ti faccio ancora un altro esempio tu puoi perdere la tua attività può andare male il tuo matrimonio oppure prendi me la mia carriera potrebbe finire da un momento all'altro ok che ne so finisce facebook quindi non lavoro più su facebook ed è per me insomma un canale importante per il mio lavoro oppure youtube chiude insomma una catastrofe tecnologica che insomma voglio dire da tenere in considerazione che c'è questa possibilità perché non abbiamo certezze ma io potrei perdere tutta una serie di risultati raggiunti ma cos'è che non perdo non perdo me non perdo le qualità che ho acquisito le capacità che nel frattempo ho appreso le competenze che ho appreso e che potrei comunque giocarmi in un altro ambito perché anche a livello umano quelle capacità mi sono servite mi servono quindi anche se tu non prendi il pezzo di carta alla fine del corso di studi o se l'attività va male anche se non raggiungi il risultato desiderato ma il viaggio che tu hai fatto per cercare di raggiungere quell'obiettivo ti ha fatto diventare una persona diversa cresciuta arricchita con delle qualità che non avevi certamente prima e quindi è questa la vera sfida e questo è il vero successo non è il risultato finale dell'obiettivo esterno ma il vero risultato è quello che tu sei diventata per raggiungere per poter raggiungere quell'obiettivo e questo è il vero successo quindi dobbiamo smetterla di cercare di diventare persone di successo ma persone di valore e il valore tu lo acquisisci nel momento in cui ti metti in gioco nel momento in cui impari a dare nel momento in cui impari anche a prendere là c'è il valore diventi una persona di maggiore valore quando cerchi di raggiungere degli obiettivi ma ripeto non è il risultato finale che non è quello il vero successo il successo è quello che succede dentro di te è quello che accade dentro di te quindi potrei non so perdere interrompere la mia carriera non fare più percorsi non fare più corsi non fare più le dirette un cataclisma totale ma tutto quello che ho imparato in questi anni tutto quello che ho acquisito tutto quello che io sono diventata questo non lo potrò mai perdere ed è questa la vera ricchezza quindi gli obiettivi hanno semplicemente il ruolo la funzione di farci alzare dalla sedia farci mettere in cammino e farci diventare una persona adulta farci raggiungere quell'adultità emozionale spirituale psicologica farci sviluppare quelle qualità dell'essere e quelle sono il nostro più grande successo cioè se io volessi sto cercando di trovare un esempio se io volessi una Ferrari non basterebbe la Ferrari a farmi diventare che ne so un pilota di primordine giusto quindi ottenere entrare in possesso di una Ferrari quindi obiettivo risultato raggiunto non mi rende però un pilota di primordine quello che ho quello che quello che posseggo per quanto possa essere importante vale sempre meno di quello che sono scrivetevelo a caratteri cubitali quindi quello che ho quello che posseggo quello che raggiungo per quanto possa essere importante vale sempre meno di quello che sono quello è il più grande successo riconoscere il mio valore la il il successo di quello che sono e conservarlo onorarlo padroneggiarlo ok quindi per avere devi prima essere vuol dire proprio questo no avere un figlio volere avere un figlio no è un obiettivo fare i figli come dire più o meno ci arriviamo tutti ed è un obiettivo bellissimo no volere avere un figlio ma avere un figlio non ci rende necessariamente dei bravi genitori quindi raggiungere quel risultato mi permette di crescere come genitore quindi io per poter raggiungere quel risultato mi devo innanzitutto chiedere che persona devo diventare per essere il genitore che vorrei per mio figlio ed è quello che poi fa la differenza non è avere un figlio perché altrimenti sarebbe troppo facile per avere devi prima essere sì Enrico sì ma non si riconosce il proprio valore raggiungendo gli obiettivi no non è una domanda provocatoria assolutamente Barbara è una domanda lecita il tuo valore allora noi possiamo riconoscere il nostro valore attraverso due canali il canale esterno quindi cerchiamo il feedback la la risposta dall'esterno ma quello è più che altro un valore professionale quando si tratta di un valore personale è un valore a prescindere da che ti spiego è un valore che ha a che fare con il tuo centro il valore del tuo centro è assolutamente a prescindere da tutto il tuo centro la tua essenza o la tua anima se preferisci non so è a prescindere dai risultati la tua dimensione spirituale la tua dimensione umana allineata alla dimensione spirituale è a prescindere io lo definisco centro perché preferisco questa parola ma poi ognuno sceglie la propria il proprio termine linguistico il centro il valore del tuo centro è a prescindere dai risultati se parliamo a livello professionale ok ci sta ma tu non sei quel risultato tu non sei il fallimento tu non sei il successo cioè puoi fallire in qualcosa ma non sei un fallimento puoi avere successo in qualcosa ma non sei un successo perché hai avuto successo in qualcosa tu sei un successo a prescindere tu vai bene a prescindere perché stiamo parlando di un'altra dimensione stiamo parlando del tuo centro quando un bambino sbaglia quando un bambino fa qualcosa di sbagliato si tende e questo sbagliamo molto noi adulti e noi genitori noi educatori in generale si tende ad associare quell'errore al al valore del bambino per esempio nel nostro sistema scolastico sarebbe tutto da rifare già il fatto di dare i voti ai nostri ragazzi è qualcosa di veramente allucinante e direi che è follia perché stiamo programmando i nostri figli a far associare il loro valore giustamente come dicevi tu adesso Barbara associare il proprio valore a una valutazione esterna ma non è così in questa maniera che cosa succede che se un bambino facciamo un bambino o anche una persona adulta fa qualcosa di stupido ok una cavolata ci sta perché siamo esseri umani e le facciamo le cavolate ok fare una stupidaggine non vuol dire essere stupidi ma vuol dire avere fatto una scelta stupida questo sminuisce il mio valore direi di no assolutamente ma vuol dire che in quel momento mi sono concessa mi sono data il permesso di fare quella scelta perché era la scelta migliore che io potessi fare in quel momento se ci andiamo a guardare indietro nel nostro passato quante scelte in questo momento non faremmo non ripeteremmo ma in quel momento però erano le scelte migliori che potevamo concederci perché gli strumenti che avevamo in quel momento le competenze le capacità i nostri blocchi le nostre paure ci consentivano di fare quelle scelte ed erano le scelte migliori che potevamo fare punto non c'è altro non c'è neanche da perdonarsi perché nel momento in cui riconosciamo che quella era la scelta migliore va da sé che non c'è nulla da perdonarsi però questo è facile a dirsi perché poi a livello del subconscio ci sono le nostre belle credenze che ci bloccano i nostri blocchi le nostre convinzioni che ci bloccano con una serie di sensi di colpa giudizi eccetera ok ciao Simona esattamente Simona bravissima no? non ci non ci danno l'esterno in generale non è solo la scuola è proprio l'esterno cioè se noi stiamo lì a dipendere dai feedback esterni stiamo freschi cioè il nostro valore verrà sempre scamazzato quindi è importante lavorare su questo e riconoscere che il mio valore non dipende da un risultato non dipende da un fallimento o da un successo perché io non sono né il fallimento e né il successo io vengo prima di tutto ciò io sono già un successo ma perché sono? ma già proprio il fatto che se ci pensate c'è uno spermatozoo su migliaia e migliaia siamo riusciti a essere vivi perché la vita ci ha voluto e questo già va onorato va valorizzato ok quindi dobbiamo veramente fare uno switch proprio di mindset cioè cambiare proprio il nostro il nostro sguardo nei confronti di noi stessi e non essere così esigenti e intransigenti bisogna veramente sviluppare una self compassion una compassione nei nostri confronti che è fatta di presenza e di gentilezza nei nostri confronti cose che si imparano durante il nostro percorso se ci sono miei clienti qui potrebbero dirlo e farmi un po' da come dire da supporto ok quindi è importante prima di avere essere molto 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 importante perché quando noi cambiamo domanda e quindi la domanda da cambiare non quando vogliamo raggiungere un obiettivo non cosa devo fare per raggiungere quell'obiettivo ma chi devo essere per raggiungere quell'obiettivo ma sentite come suona sentite come è diversa l'energia della frase ok chi devo essere perché quando fate questo switch da cosa devo fare per raggiungere questo obiettivo voi si state nella lista del fare quindi tutte le azioni da intraprendere ma restando in quella zona siete limitati perché perdete di vista il 70% del processo che è quello dell'essere quindi quando avete un obiettivo da voler raggiungere non chiedetevi cosa devo fare ma chiedetevi chi devo essere questo è importante chi devo essere viene molto prima del cosa devo fare viene molto prima quindi farvi questa domanda può diventare veramente un faro che vi darà chiarezza che vi darà vi farà entrare proprio vi farà connettere alle azioni giuste da intraprendere ma azioni collegate all'essere in connessione con l'essere perché altrimenti che cosa succede che vi scollate cioè da una parte ci sono tutte le azioni da fare quindi tutta la la lista delle azioni da fare per raggiungere un obiettivo ma se voi non ci siete se voi non sapete quali qualità sviluppare quali risorse che sono che sono già dentro di voi andare a utilizzare quelle azioni restano sulla carta quelle azioni restano lontane ed ecco perché passare dalla domanda cosa devo fare per raggiungere quell'obiettivo al chi devo essere per raggiungere quell'obiettivo fa la differenza e dà valore vi aiuta a dare valore al viaggio perché spostate il focus dal traguardo al viaggio perché io per raggiungere quel traguardo devo fare un viaggio devo fare un percorso e io chi devo essere per percorrere questo viaggio quali devono essere gli strumenti da mettere nella mia valigia e quali pesi devo eliminare quali capacità devo sviluppare quali competenze quali qualità della mia anima devo manifestare fiducia fede gratitudine coraggio perdono quindi ricordatevi prima di chiedervi cosa devo fare per raggiungere quell'obiettivo chiedetevi chi devo essere per raggiungere quell'obiettivo questa è una domanda che nella mia vita ha fatto veramente la differenza perché prima io ero una accumulatrice compulsiva di obiettivi ma non mi sentivo mai appagata e non mi davano non mi davano come dire non davano senso alla mia vita perché ero molto sul fare ero focalizzata sul fare solo sul fare però ero sconnessa quando ho iniziato a cambiare la domanda e lì è cambiato tutto perché ho iniziato a dare valore al percorso non al risultato finale ma al percorso al viaggio e ho scoperto proprio il piacere di viaggiare di fare il viaggio della vita ho scoperto la gioia nei miei percorsi e io so che ci sono clienti tra di voi che hanno fatto il percorso con me e io do molto spazio proprio alla gioia del vivere alla gioia del viaggio a farlo con una certa leggerezza eliminando quei pesi che invece ci tengono solo focalizzati sulla strategia del fare sull'accumulare risultati obiettivi ma questo succede quando noi siamo sconnessi dal nostro centro dalla nostra essenza aspetta Rosaria che cerco di leggerti guardarsi con gli occhi del cuore e non della mente critica e subconscia è un viaggio un cammino che io ho il piacere di fare con te solo oggi so come sentire il mio valore e il mio centro a prescindere dall'esterno e da ciò che ho te ne sono grata grazie 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 per questa testimonianza grazie veramente grazie io sono grata a te perché il viaggio non è mai solo della della persona che mi contatta noi il viaggio lo facciamo insieme mano nella mano per cui è un viaggio che facciamo appunto di fianco mano nella mano quindi ricordatevi di cambiare di allenarvi proprio di allenarvi a cambiare questa domanda dentro di voi questa domanda è una domanda potentissima che a me ha dato tanto che nella mia vita ha fatto tanto e mi ha dato la possibilità di di dare non solo valore al mio viaggio ma mi ha dato anche la possibilità di dare più valore nella mia professione quindi alle persone che si rivolgono a me perché prima io facevo dei proponevo dei percorsi che erano proprio di coaching protocollo classico diciamo ma questo ad un certo punto ho sentito che era troppo limitante che era ciao Annalisa che era limitante che era mancavano dei pezzi e quando ho iniziato a usare questa domanda e a portarla anche nei miei percorsi anche le persone hanno ottenuto una maggiore ricchezza dal percorso perché è una domanda che ci aiuta a a dare maggiore valore a quello che sei a quello che sei a prescindere dal risultato finale quindi ricordiamoci gli obiettivi sono dei pretesti per farci mettere in cammino e per farci diventare la persona più evoluta per raggiungere quel determinato obiettivo e a prescindere dal risultato finale perché anche se non ottengo quel risultato anche se non ottengo quel pezzo di carta anche se il matrimonio fallisce o se certo non sto sminuendo il dolore non sto sminuendo le emozioni di dolore e di rabbia e di tristezza di abbandono non non voi non è questo il mio intento è ovvio che dopo averle accolte dopo averle abbracciate queste parti ferite poi si può passare a a vedere la realtà con occhi diversi a intravedere che tra le maglie del dolore nella rete del dolore ci sono anche degli aspetti di crescita di ricchezza che nessuno ti può portare via perché grazie a quell'esperienza grazie a quel matrimonio che anche se non è andato come tu volevi anche a quell'attività che anche se non è andata come volevi grazie a quello scarto di realtà quello scarto di realtà e quel pezzo di realtà che non corrisponde al tuo desiderio quindi anche se tu hai vissuto quello scarto di realtà non corrispondente al tuo desiderio ma tu oggi sei quello che sei grazie anche a quell'esperienza quindi gli obiettivi a prescindere dal risultato finale hanno proprio la funzione di farci mettere in cammino non hanno la funzione di essere realizzati certo se li realizziamo tanto meglio ma in genere questo succede quando l'obiettivo è allineato cioè quando noi siamo allineati al nostro essere cioè al nostro centro quindi se li raggiungiamo ok va bene ma se non li raggiungiamo va bene lo stesso perché vuol dire che quell'esperienza è entrata nella mia vita quel viaggio l'ho fatto perché mi serviva a farmi uscire dalla mia comfort zone a farmi mettere in viaggio a misurarmi con i miei limiti a farmi mettere in gioco a sviluppare delle qualità o delle capacità che pensavo di non avere ok va bene guardo l'orario perché voglio essere puntuale ogni tanto anzi ultimamente stavo peccando di non rispettare l'orario quindi e non è corretto nei confronti dei colleghi che che sono come dire più disciplinati ok se avete domande prima di salutarci cioè quindi ricordiamoci che l'avere è un effetto collaterale è un effetto collaterale dell'essere no è un effetto collaterale di questo processo di allineamento di crescita dell'essere viene dopo non può venire prima come posso io dimagrire 10 chili se non sviluppo disciplina se non sviluppo la forza no se non decido di essere una persona disciplinata costante che fa le cose anche quando non c'è voglia ok quindi è importante che l'essere venga che questa parte del processo la parte dedicata all'essere venga considerata prima di raggiungere un risultato quindi allenatevi a passare dalla domanda cosa devo fare per alla domanda chi devo essere per chi devo diventare in come devo evolvere quali capacità devo sviluppare e quale qualità della della mia anima devo manifestare ok bene sono le 8 e 20 abbiamo ancora 10 minuti se avete qualche domanda ci sono domande allora diciamo che questa diretta potrebbe sintetizzarsi in una in un'assioma no in un in un'unica frase cioè l'importante non è quello che possiedo ma quello che sono diventato ecco io direi che veramente tutto quello che abbiamo detto in questa diretta si può sintetizzare in questa frase no quindi l'importante non è quello che ho raggiunto non è quello che possiedo non è quello che ho ma è quello che sono diventata quindi questa è la cosa più importante perché quello non ti potrà mai essere tolto puoi perdere un matrimonio puoi perdere un'attività ma non puoi perdere te le capacità che hai acquisito le qualità che hai sviluppato quelle sono cose che non ti potranno mai essere tolte mai Francesca allora anche io ho sempre pensato che i fallimenti mi hanno fatto evolvere domanda come si come si supera quel poco di paura latente quando in testa si ha un nuovo obiettivo ma la paura quel poco di paura latente se un poco di paura Francesca è giusto che ci sia perché la paura è un'emozione sacrosanta è una delle emozioni primarie che serve per farci stare in contatto con i nostri limiti e farci mettere i piedi come dire farci vedere dove stanno i nostri piedi no quindi la paura non è che può essere eliminata non credete a nessuno se qualcuno vi dice che la paura deve essere eliminata è un grandissimo sbaglio saremo alla merced di un delirio di onnipotenza no e quindi rischieremo anche la vita direi la paura ci serve la paura come il dolore come la gioia ci serve io dico sempre che dentro di noi un po' la crescita personale noi siamo un po' come dei avete mai sentito il detto che del maiale non si butta via niente beh io dico noi siamo un po' così non si butta via niente scusatemi che ho dimenticato di prendere l'acqua quindi mi sto un po' strozzando che cosa vuol dire la paura non andrà mai via d'altronde avere coraggio Francesca non vuol dire non avere paura ma vuol dire agire nonostante la paura infatti nei miei percorsi io non insegno non avere paura io insegno le persone a gestire la propria paura la propria ansia da prestazione e fare quelle scelte nonostante la paura come si fa innanzitutto focalizzandoti sui tuoi punti di forza poi credendo in te stessa credendo nell'invisibile quindi credendo nell'energia anche dell'universo anche perché quando tu ti allinei Francesca e quando sei allineata e fai quello che senti che è giusto per te quindi secondo i tuoi valori arrivano degli aiuti sincronici arrivano delle situazioni di aiuto di supporto sincronico io lo definisco così perché siamo in quel in quel caso ci come dire siamo ci connettiamo anche all'energia universale all'anima universale cioè la nostra anima individuale si connette all'anima universale e quindi quando questo succede la missione della nostra anima lo scopo della nostra anima si manifesta e ci arrivano gli aiuti di cui abbiamo bisogno però per rispondere di nuovo alla tua domanda quel poco di paura se è un poco di paura è giusto che ci sia e sana e funzionale se parliamo di un poco di paura se invece pensa quando ti faccio l'esempio io quando salgo su qualche palco per fare dei corsi o dei seminari o delle conferenze ho sempre un po' di paura guai se non ci fosse significherebbe che mi sono staccata dal cuore cioè che per me quello che faccio non è più importante quindi un po' di paura c'è sempre ma anche lo dicono gli attori di teatro lo dicono tutti i più grandi artisti quel po' di paura è sana se diventa patogena allora no perché se è patogena vuol dire che non stiamo più parlando di un poco di paura cioè quel poco di ansia che serve l'ansia da prestazione un pochino pochino ci deve essere quando facciamo qualcosa che ci porta fuori dalla zona di comfort allora un attimo solo spero di averti risposto allora vediamo un po' oddio ti ho perso non so perché non mi esce più ok sto leggendo Margherita quando si parla dell'essere genitore quanti sensi di colpa certo sì sicuramente non riesco a vedere tutti i commenti vediamo un po' allora un po' di pazienza perché francesca eccoti qua ti ho trovato non intendo non avere paura bravissima ma un modo tra virgolette per bypassarla e andare avanti ok francesca bypassare no non va bypassata non va combattuta non va vinta perché non è un combattimento tra te e la paura non c'è neanche una gara non c'è nessuno che debba vincere e non va bypassata ma va proprio accolta cioè riconosciuta riconoscere che dentro di te c'è quella parte di te fragile che davanti a un obiettivo vive un po' di paurella e quindi riconoscere questa parte è un modo anche proprio per dare un abbraccio a quella parte fragile alle tue fragilità no e questo riconoscerla ad accoglierla toglie potere alla paura e diventa un'alleata non diventa più una nemica ma diventa un'alleata cioè una compagna di viaggio che ti serve per capire se stai come dire se ti stai facendo violenza se stai facendo più di quello che puoi in quel momento no quindi la paura un po' di paura è sempre sana ok Francesca focalizzati sulle sulle emozioni di piacere di gioia che ti trasmette quell'obiettivo quindi quando arriva quella sensazione chiudi gli occhi e focalizzati visualizza l'obiettivo una volta raggiunto ed entra in contatto con tutte le sensazioni positive che ti che ti che vivi nel momento in cui raggiungi quell'obiettivo questo dovrebbe in qualche modo far salire la l'energia quindi farti spostare da una vibrazione bassa perché la paura paura e senso di colpa hanno le vibrazioni più basse di tutta la scala delle emozioni quindi se ti focalizzi invece sulla visione finale fai lo switch energetico ok poi per qualsiasi cosa mi puoi contattare anche in privato e vabbè insomma mi puoi seguire anche sul profilo privato allora vediamo un attimo qui c'è Lucia sono in crisi perché sono rimasta sola dopo una convivenza liberatoria non ho figli e non so cosa fare della mia vita un consiglio e Lucia come faccio a darti un consiglio per una cosa così così e insomma è una cosa molto profonda non me la sento di darti un consiglio significherebbe togliere valore alla tua alla tua richiesta svalorizzarla no e quello che posso dirti non sapere cosa fare della tua vita Lucia inizi a chiederti cosa è importante per te fatti questa domanda cosa è importante per me porta la tua attenzione sulle cose che ti piacciono su ciò che faresti anche gratuitamente su ciò che ti dà gioia su ciò che ti fa perdere la cognizione del tempo dai spazio proprio al piacere dai spazio alla gioia e una volta che inizia a ricominci a nutrirti di gioia fatti un po' di domande tipo cos'è veramente importante per me questa domanda falla al tuo cuore chiudendo gli occhi per esempio coltivando ogni giorno qualche momento di silenzio chiudendo gli occhi e chiedendo al tuo cuore cos'è importante per te rivolgendoti al tuo cuore e aspetta la risposta la risposta arriva sempre bisogna solo avere pazienza e soprattutto accettare che spesso la risposta non è quella che vorremmo sono le otto e mezza vediamo un pochino allora ciao maria figurati non preoccuparti poi te la vedi in differita la diretta grazie anzi che tu sia riuscita comunque benissimo grazie a te lucia grazie a te mi potete seguire anche sul profilo privato in questo periodo non sono tanto tanto social però comunque potete leggere tutti i vari post che ho scritto nel tempo adesso sto scrivendo poco comunque uno o due post alla settimana più o meno riesco e poi insomma se vi fa piacere ho anche un canale telegram quindi se siete interessati mi potete anche contattare in privato per collegarvi al mio canale telegram e cos'altro dire ricordatevi da oggi per ogni obiettivo basta chiedersi cosa devo fare oddio si è bloccato ecco qua basta chiedersi cosa devo fare per raggiungere quell'obiettivo ma iniziate a chiedervi chi devo essere per raggiungere quell'obiettivo perché sarà questo che farà la differenza nella vostra vita non sarà l'obiettivo finale credetemi credetemi sulla parola sperimentate soprattutto perché il risultato finale quello che voi otterrete potreste sempre perderlo ma chi voi diventerete non lo perderete più un bacio a presto al mese prossimo ciao 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 ciao